Stasera alle 19.30 al Parco Archeologico di Pompei sarà presentato il logo ufficiale che sosterrà la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell'UNESCO. Logo realizzato dagli allievi della scuola, della medaglia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Interverranno tra gli altri il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Lollo Brigida, il Ministro della Cultura San Giuliano, il Ministro dell'Interno Piante Dosi.